Benvenuti sul nostro canale. Nel nostro video di oggi, parleremo del rapporto sorprendente tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore dopo il loro divorzio. Scopriremo come gestiscono questa relazione unica. Elisabetta ha recentemente rivelato che lei e Flavio cenano insieme tutte le sere nonostante il divorzio. Questo rapporto eccezionale li rende un'ex coppia inusuale. La coppia si è sempre concentrata sul benessere del loro figlio Nathan. Questo impegno ha contribuito a mantenere la serenità del ragazzo dopo la separazione. Elisabetta e Flavio vivono a breve distanza l'uno dall'altro e trascorrono molte serate insieme, incluso il Natale. Elisabetta ha dimostrato di essere in grado di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, nonostante la sua relazione con Giulio Fratini. La coppia si trova in disaccordo sulla possibilità di mandare Nathan in un collegio in Svizzera mostrando una visione contrastante per il futuro del loro figlio. In breve il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore fuori dall'ordinario e ci fa riflettere sulla possibilità di mantenere una connessione positiva dopo un divorzio. Cosa ne pensate di questa storia? Lasciateci un commento e non dimenticate di mettere mi piace e iscrivervi al nostro canale per altre notizie sul mondo delle celebrità. Alla prossima!